Nuova antenna telefonica nel giardino Maria Montessori di Via Lanzoni. Contro l'installazione per i residenti hanno fatto partire una raccolta firme che in quattro giorni ha già raccolto 255 adesioni. I cittadini lamentano di non essere stati informati e sono contrari al nuovo ripetitore 5G a servizio della rete Wind. Il giardino Montessori si trova a pochi passi da Via Lecilla, alle spalle della scuola primaria Ricci, e sorge tutto attorno al parcheggio Antico Lazzaretto, un parcheggio molto utilizzato, 224 posti gratuiti a servizio del centro storico. A ridosso dei posti auto in questi giorni era apparsi il cantiere, ma nessuno aveva dato molto peso alla novità. Solo una volta venuti a conoscenza dell'obiettivo dei lavori è nata la protesta. Nella petizione i primi firmatari fanno sapere di essere preoccupati per le conseguenze per la salute pubblica e per il deturpamento del paesaggio. L'asta, alta una trentina di metri, sorge a meno di 70 metri dalle abitazioni. La norma sulla distanza è stata brogata, ma i firmatari della petizione fanno notare che comunque è buona prassi progettuale continuare a rispettarla. Nel loro documento i residenti chiedono anche se siano state bagliate altri siti alternativi e perché non è stata considerata la vicinanza della scuola primaria. Inoltre, secondo i cittadini, la scelta della posizione centrale all'interno del parco, senza interventi di mitigazione possibili, ne deturpa fortemente il valore paesaggistico e la visuale, oltre a gravare sul potenziale valore commerciale degli immobili adiacenti. Con la raccolta firme, quindi, i sostenitori chiedono che venga sospesa immediatamente l'installazione con conseguente rimozione delle parti fino ad ora realizzate, ovvero la base su cui poi poggerà l'antenna.